Si sapranno nei prossimi giorni le cause dell'ennesimo incidente mortale sul lavoro in Veneto e nella Marca. Teatro della tragedia che si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri il piazzale della L di Plast di via Montello a Pezzandistrana. Vittima Marzio Borsato, 48 anni di padronello di paese, operaio travolto da un bancale di materiale plastico che la ditta usa per realizzare principalmente cassette per l'agricoltura. Tutto è accaduto intorno alle 17 quando Borsato stava lavorando nella zona di vita a magazzino. D'un tratto i colleghi hanno sentito un forte rumore e poco dopo si sono accorti dell'uomo a terra sotto ad un cumulo di plastica grezza. Subito sono stati allertati i soccorsi e in pochi minuti è arrivato l'elicottero del suo M di Treviso. Nonostante la tempestività nulla hanno potuto fare i sanitari se non constatare il decesso dell'operaio, il corpo del quale è stato ricomposto dai vigili del fuoco giunti immediatamente sul posto. Al momento non è chiara la dinamica dell'incidente, anche se l'ipotesi più probabile sarebbe quella di un errore di manovra dello stesso Borsato. Saranno i tecnici dello Spisa, i carabinieri a stabilire l'esatta causa dell'incidente. Per il quale il magistrato potrebbe chiedere l'autopsia sul corpo dell'uomo prima di dare nulla osta per i funerali.